Bentornato Goodler, bentornata. Andiamo adesso a tentare di risolvere qualche problema. Infatti in questa sezione del pannello di controllo ci interfacceremo con la risoluzione dei problemi. A cosa serve naturalmente? Ad individuare e risolvere problemi più comuni del computer. Qualora si verificasse qualche problema, potrai consultare questa sezione e, esplorandola, iniziare dei controlli specifici tramite delle procedure guidate suddivise per categoria, in modo da tentare di risolvere dei problemi. Come accedi naturalmente? Dal pannello di controllo individuando il pulsante risoluzione dei problemi. Cliccandoci sopra si accede a una nuova sezione nella quale potrai visionare qualcosa di simile a quanto mostrato in questo screenshot, ma potrebbe anche essere diverso. Quindi avrai una serie di pulsanti al centro ed una serie di pulsanti sulla sinistra in alto. Le categorie per tipologie di indagine potranno essere un pochino anche diverse, ma più o meno sarà almeno programmi, hardware e suoni, rete ed internet, aspetto e personalizzazione, e sistema e sicurezza. Questo in maniera molto grossolana. A sua volta ogni categoria potrà contenere una più sottosezioni, ma in realtà potresti avere anche la possibilità di visualizzare una sezione più esplorata tramite il pulsante visualizza tutto posto in alto a sinistra. E qui una rappresentazione grafica, al cui centro troverai anche una descrizione. Se il problema presente nel tuo computer non dovesse comunque comparire, potrai tentare di cercare la soluzione digitando il tipo di problema nel box in alto a destra del campo di ricerca di questa sezione. La varietà di opzioni e possibili soluzioni che il sistema operativo ti presenterà rende impossibile una panoramica descrittiva completa di questa sezione, per cui mi limiterò a spiegare il senso di questa sezione. Sarà poi la tua pratica, la tua volontà nel tentare di risolvere il problema che si presenterà di volta in volta, il quale ti consentirà di ottenere un pieno controllo della sezione. Una volta che avrai individuato la categoria di appartenenza del tuo problema, naturalmente cliccaci sopra. Si avvierà sostanzialmente una procedura guidata che dovrai seguire e assecondare, per meglio, indirizzare la ricerca del problema ed eventualmente alla sua probabile soluzione. Durante la stessa si alterneranno fasi automatiche e fasi statiche, nella quale il sistema operativo attenderà una tua azione al fine di continuare la ricerca della soluzione. Ti fornirà delle domande a cui tu dovrai rispondere con dei clic sostanzialmente. Se vuoi sperimentare la funzionalità delle varie categorie sotto sezione, potrai senz'altro eseguirlo qualora tu volessi anche in assenza di problemi, ma in questo caso ti conviene lavorare in sicurezza, magari virtualizzando il sistema operativo, in modo che se si dovessero verificare delle variazioni di impostazioni impreviste, un semplice clic di avvio del sistema e il problema sarà risolto. Un problema che potresti trovare frequentemente durante l'installazione dei programmi potrebbe essere quella dell'incompatibilità tra il programma stesso e Windows, soprattutto se questo programma che hai installato potrebbe non essere recente. Una schermata ipotetica che si presenterà è quella mostrata di seguito, nella quale tu potrai cliccare sul pulsante Restalla utilizzando impostazioni consigliate, o programma installato correttamente. In sintesi, puoi decidere di reinstallare il programma utilizzando le impostazioni consigliate, tentando così di ridurre i problemi di incompatibilità, o decidere di tua iniziativa di indicare al sistema operativo che il programma è stato installato correttamente. Alternativa è avviare la sezione Risoluzione dei problemi e sotto la categoria Programmi cliccare sul pulsante Eseguire programmi gradi per le versioni precedenti di Windows. Avviando questa procedura il sistema ti elencherà i programmi installati, seleziona naturalmente quello che potrebbe avere problemi di incompatibilità e quindi non funzionare correttamente, e seguendo la procedura guidata il sistema tenterà di sanare problemi di incompatibilità. Altri pulsanti in alto a sinistra troverai sono Visualizza cronologia, Cambio impostazioni o Richiedi assistenza ad un altro utente. La prima sezione ti permetterà di avere una visione della cronologia dei problemi che avrai evidenziati, puoi consultarla e cliccandoci sopra al singolo evento nascerà un menu che ti consentirà di visionare i dettagli del rapporto del problema che si è generato, cercare eventualmente soluzioni o rimuovere il singolo evento o l'intera cronologia. La seconda sezione ti permetterà di accedere ad un'altra sottosezione che ti consente di attivare o disattivare la rilevazione e verifica dei problemi, compresa la loro soluzione. La terza sezione ti consentirà di chiedere o offrire assistenza ad un altro utente o tramite il controllo remoto o inviando un file didattico nel quale registri le schermate, le azioni, i vari clic che eseguirai durante la procedura che mostrerà la soluzione del problema e dalla quale deriverà una rappresentazione grafica e descrittiva nella sequenza cronologica del tuo mouse che porterà poi l'udente che leggerà tale sequenza a risolvere il problema. Troverai in questa sezione alcuni pulsanti che ti consentiranno di chiedere o offrire assistenza remota o inviare un file come appena detto. Il programma che ti permetterà di registrare le azioni dell'udente è chiamato PSRO, in italiano registrazioni azioni udente. Troverai presente il pulsante per iniziare ed interrompere la registrazione al termine del quale otterrai un file che invierai e avrai la rappresentazione grafica con dei commenti di quanto avrai eseguito con il mouse. Bene, ora andiamo a visionare la parte grafica. Come al solito premiamo Start, pannello di controllo individua il pulsante risoluzione dei problemi e qui hai una prima schermata con dei pulsanti al centro e un'altra sezione di pulsanti in alto a sinistra. Come puoi visionare? I possibili problemi sono suddivisi in categorie. Ti ricordo subito, qualora non fosse presente il problema che visioni o in questa rappresentazione oppure cliccando sul pulsante visualizza tutto potrai semplicemente cliccare nel campo di ricerca e trascrivere il problema che si presenta in modo da poter indirizzare il sistema operativo nella ricerca del suo archivo per fornirti una procedura che ti consentirà probabilmente di risolvere il tuo problema. Comunque, come va utilizzata questa sezione? In base al problema che inizierai potrai selezionare il tipo di procedura guidata che ti consentirà di eseguire alcune verifiche automaticamente in parte e con il tuo aiuto per completare questa procedura a termine del quale se il sistema operativo dovesse tornarti utile avrai risolto il problema senza interventi molto corposi. Ti faccio un esempio, qualora tu avessi problemi di compatibilità utilizzando un programma non molto recente, ad esempio potrai cliccare su questo pulsante che consente appunto di eseguire programmi meno recenti nella versione di Windows attualmente in uso. Si avvierà una procedura guidata che ti consentirà di, come detto in precedenza, tentare di risolvere il problema, troverai il pulsante avanzate che ti permette di eseguire l'operazione di ripristino automaticamente senza che tu possa intervenire o riducendo i tuoi interventi. Comunque, cliccando su Avanti si avvierà la scansione dei problemi dei programmi di compatibilità. Tu dovrai attendere. Potrai selezionare il programma che verosimilmente ha il problema oppure qualora non fosse in elenco lo cercherai in altro modo seguendo il pulsante sfoglia per indirizzare il sistema operativo nella sezione eseguibile. Interrompiamo e ripartiamo con questa procedura. Dicevo, nel momento in cui hai in lista il programma, sarà sufficiente cliccare sul pulsante che rappresenta il programma che evidenzia il problema, mandare avanti la procedura guidata e, come detto, potrai avere delle domande a cui tu dovrai rispondere con dei click. Ovviamente, se non sei molto ferrato, cerca di automatizzare quanto più possibile la selezione, come in questo caso, prova e impostazioni consigliate. La procedura ti fornirà alcune possibili soluzioni ed azioni da eseguire per tentare di risolvere questo problema. Potrai avviare il programma per visionare se ci fosse una risposta positiva al problema. Ovviamente, questa è una procedura che potresti non aver mai eseguito, quindi la rappresentazione grafica durante questa lezione può naturalmente essere diversa da quello che tu riceverai in notifica, ma il senso di questa lezione è farti prendere visione dei problemi e tentare di risolverli. Supponiamo di poter visionare, ad esempio, una grafica Aero, cliccando su Avanzate, eseguirà i suoi bei controlli. Come puoi vedere, la grafica è cambiata durante questa soluzione dei problemi e attualmente avrai anche la rappresentazione Aero delle icone dei programmi che saranno avviati. Quindi questo è un esempio totalmente pratico che ti mostra come risolvere eventuali problemi in maniera del tutto automatica. Qualora tu abbia risolto il problema, naturalmente cliccando su Chiudi, ti stimolo a eseguire questa operazione, come nel caso in cui sto facendo io, con un sistema virtualizzato, così qualora si presentassero dei problemi puoi risolvere senza dubbio con un semplice clic. Cliccando sul pulsante Visualizza cronologia, avrai listati i problemi che avrai affrontato in questo ambito, quindi potrai cliccare sui singoli e visionare i dettagli tramite un rapporto che normalmente potrai visionare anche durante la procedura guidata, potrai decidere di eliminare il singolo rapporto oppure rimuovere totalmente la cronologia. Il pulsante Cambio impostazioni ti consente di attivare o disattivare la procedura di soluzione dei problemi e altre opzioni periferiche ed infine potrai decidere di richiedere assistenza ad un utente qualora tu abbia preso accordi con un centro assistenza oppure se tu sei in grado di poter offrire assistenza dovrai cliccare sul pulsante Offre assistenza ad altri utenti ma si avvierà una procedura che ti consentirà di connetterti con l'altro utente oppure la cosa che ritengo più semplice cliccando sul pulsante Registrazione azioni utenti si presenterà, si mostrerà questo menu che ti permetterà di registrare la sequenza di operazioni derivate dal tuo mouse cliccando sul pulsante Inizia registrazione si avvierà appunto la registrazione della sequenza dei tuoi clic che potrai utilizzare in seguito e al termine inviando il file come un file didattico potrai decidere di sospendere la registrazione oppure interromperla o riprendere la registrazione al termine del quale in base alla sequenza di soluzione del problema che dovrai mostrare potrai decidere di salvare con un nome prova soluzione problemi come in questo caso salvando otterrai un file che dovrai inviare all'utente al quale fornire assistenza il quale aprendo il file nel suo browser avrà mostrata la sequenza delle operazioni che tu avrai riprodotto e quindi potrà essere utile grazie anche a una descrizione che potrai aggiungere come commento alla soluzione del suo problema come sempre terminiamo la lezione inviandoti alla successiva per continuare l'approccio al pannello di controllo ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e alla prossima